La sorella di Eufeno Qual è il ricordo della zia? Che non meritava questo essendo che era una persona così Penso che non dava fastidio a nessuno perché era molto riservato Casa, lavoro e basta Ma come ce lo spiega? Non lo so La notte di Natale Dobbiamo ancora capire in realtà cosa è successo La notte di Natale E che ha avuto un coraggio così terribile perché non si può fare una cosa del genere La notte di Natale Quando bisogna essere più buone Qualcuno l'ha dimenticato sicuramente Qualcuno l'avrà dimenticato Ma lei che pensa? Secondo lei come è accaduto? Non lo so A lei l'hanno informata i familiari di Lipari? Stanotte ci hanno chiamato E stamattina è venuta soltanto? Sì Ma è riuscita a entrare lei dentro? No, mi hanno fatto entrare però non Solo il magistrato mi ha fatto alcune domande per capire un po' Basta E ora sono appena Ma lei l'ha vista? No, no, è nel garage Adesso sono arrivati quelli del... Del risso Adesso sono entrati nel garage Perché ho sentito che c'era qualcuno che diceva Stiamo entrando nel garage Stiamo entrando nel garage